Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Gloria a te, oh Signore. Gesù disse ai Suoi discepoli, non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità, io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. L'ha detto Gesù. Conta anche una virgola, un trattino, scritto nel libro sacro, nella Bibbia. Perché questa è la lettera che Dio ha scritto all'umanità. Ci ha fatto sapere chi è, da dove veniamo, dove andiamo. Noi veniamo dalla terra, ma abbiamo ricevuto uno spirito immortale da Lui, per cui quelli che ci generano nella vita terrena sono padre e madre, non sono altri. Non sono le invenzioni pazzesche degli uomini, è l'anima che è il segno di un amore di Dio che vuole immortale questo spirito come Egli stesso è immortale. Perciò siamo immagine e somiglianza di Dio. Immagine per la razionalità, per l'immortalità, la somiglianza per la capacità di acquistare le virtù, di compiere il bene. Questi sono i due motivi per cui la scrittura mette due parole, non una, in riferimento a Dio. Poi andiamo a vedere che cosa il Signore ci dice attraverso i Patriarchi, i Profeti, Mosè. Quello è il libro della rivelazione. Dio si rivela agli uomini, se no che ne sapremmo noi. Potremmo avere l'intuizione di Dio attraverso la logica e l'intelligenza umana, ci avviciniamo a capire che tutto quello che esiste non si è fatto da sé. Come io non ho creato me stesso, né voi avete creato voi o i nostri genitori. Dobbiamo andare a un'origine diversa dalla semplice successione della materia. C'è lo spirito prima della materia. Ogni teoria filosofica si regge su una gambarotta. E allora andiamo a vedere che cosa Dio ha detto agli uomini prima che venisse il Figlio Suo a parlare. E lo sappiamo. Tutto l'Antico Testamento, l'Antico Testamento, pensate voi, è un testamento ed è antico. Significa che ce n'è un altro moderno e il Nuovo Testamento lo annuncerà e lo firmerà Gesù stesso. Per cui la scrittura che precede Gesù si chiama rivelazione, attraverso l'ispirazione che Dio dà ai profeti e a Mosè. Con Gesù, figlio di Dio, quindi Dio stesso, noi abbiamo il completamento della rivelazione. E Gesù spiega. Io non sono venuto a cancellare, a dire che non è buono quello che è stato insegnato prima. Io vengo a completare, fu detto che ti puoi fare giustizia, fu detto che tu puoi odiare il tuo nemico. E io vi dico invece, ecco, Gesù perfeziona la legge, completa le notizie della rivelazione di Dio Padre. Sappiamo, attraverso il Vecchio Testamento. Però quando Filippo domanda a Gesù, facci vedere il Padre e questo ci basta, capito? La rivelazione sarà piena quando noi possiamo vedere tuo Padre, Dio, che ti ha mandato. E Gesù risponde che chi vede lui vede il Padre. Allora con Gesù si completa la rivelazione, cioè conosciamo tutta la verità, non dobbiamo aspettare nient'altro. Domanda. E allora perché la Chiesa proclama ogni tanto un dogma della Chiesa, un dogma della verità cristiana? Qui non parliamo di creare una verità, ma di proclamarla. Significa scansare ogni dubbio. La Madonna è immacolata, sì o no? Si può discutere. Ma quando la Chiesa arriva alla conclusione biblica, teologica, logica, allora non si discute più. La Madonna è immacolata, significa concepita senza peccato originale. In Gesù ci sono due nature, quella di uomo e quella di Dio, o il contrario. Si può discutere anche nei concilii, ma una volta definita la verità, quella verità chiaramente è tale e tale rimarrà per sempre. La Chiesa non può cambiare mai. E che cosa può cambiare allora? No, la Chiesa può soltanto spiegare, definire, proclamare e quindi poi guidare nell'osservanza. Quando finì la guerra, l'ultima grande guerra, e poi cominciarono le grandi votazioni, poi ci furono i referendum, matrimonio, divorzio, aborto, sì o no? Quest'Italia incominciò a imbastardirsi e ha finito di essere cattolica. È passata la zavorra, ma allora si sentivano cristiani ignoranti, per quell'ignoranza tosta, una pietra, che dicevano, beh, adesso cambia, adesso cambia. Ma essi intendevano la sostanza della verità. No, non sono gli uomini. Il Papa compreso è cambiare la sostanza della verità. Quello che il Signore Gesù ha detto, quello, è verità e sarà sempre verità. Allora Gesù è venuto a completare. Poi c'è un secondo passo. Gesù è venuto a compiere la redenzione. Non servirebbe molto a tutti noi essere dei bravi biblici, teologi, dottori. Se poi con la morte ce ne andiamo all'inferno, perché non possiamo entrare in paradiso. E che ce ne faremo? E tutta la sapienza. Allora ci occorre una grazia che ci liberi dal peccato e ci restituisca la dignità dei figli di Dio e faccia di tutti noi battezzati una sola famiglia, eredi del paradiso. Pensate qualche volta. Ma come va? Alla fine, insomma, io spero che mi salvi l'anima, che Dio mi accolga e almeno di là riposa in pace. No? Che significa se no? Proprio questo. Finisce la guerra e incomincia la pace con Dio e sarà l'eterna visione e beatitudine dell'anima. Noi andremo in paradiso non soltanto perché è finita questa vita, ma perché Dio premia il bene che abbiamo compiuto. Dio, ah Signore mio, che stiamo a fare qua? Potremmo andare a dormire, andare a spasso, andare nelle sescelle. Noi stiamo qua, davanti a Gesù Cristo, a rafforzare la verità, ad attirare su di noi le benedizioni del Signore, a supplicarlo a Dio che faccia rinsavire certe teste di montone che ci governano e tanti altri. Allora, questo è il bello. Il Signore Gesù è venuto per completare e ci rallegra la verità. È venuto per redimerci e ci consola e ci libera dalla tristezza, dalla schiavitù, del peccato e dell'ignoranza della società. Quante consolazioni il Signore ci dona già per questo. Poi c'è la grande rivoluzione del bene che viene a noi attraverso la Pentecoste, lo Spirito Santo. E da allora incomincia rivelazione, redenzione, santità nella Chiesa. Se no, che differenza c'è tra Paolo e Gioacchini che incontro per la strada, tra Francesco d'Assisi e il ladro, l'assassino di Maria Gorelli. Che differenze ci sarebbe? È qua allora, nella santificazione quotidiana, che Gesù realizza il regno di Dio a cominciare dalla terra. Preciosi sono i miei, forse non, ma i vostri giorni, sì, per tutto il bene che il Signore vi dà da compiere. E riveviamo a Dio le nostre preghiere. Diciamo insieme, ascoltaci, oh Signore. Sant'Agnese di Bohemia. Sant'Agnese di Praga. Tutti presenti al mondo, mentre in Assisi Chiara si invola in San Damiano. La successione sembra di due sapienti atti, che il cielo stesso recita sul palco della terra. Ti allatta la pia mamma, in Slesia poi ti educa la nobile Edvige, all'ombra Cistercense. Sei poi condotta a Vienna, perché promessa sposa al grande Enrico VII. Hai solo nove anni. Purtroppo arriva a tanto la potestà paterna. Del gioco dei poteri poi si sbarazza Dio. Tu sciogli quel legame, nella tua patria torni. Gregorio IX invochi per consacrarti a Dio. Mentre proposte piovono dai troni dell'Europa, tu costruisci già il tuo monastero. Hai dato tutto ai poveri, i beni del tuo rango. Ora te stessa doni al Re dell'Universo. Ti ispiri tutta a Chiara. A lei, con le tue lettere, chiedi celesti lumi. E lei ti fa da madre. La povertà t'ha dita, qual titolo più bello, per esser vera sposa di Cristo crocifisso. Lasciasti la corona, ancella di Bohemia. Sei divenuta ancella nel regno di Gesù. Tu, bella e pura vergine, seguendo quelle sagge, hai messo nella lampada l'olio in abbondanza. Canto numero sei.